Risultato anche un po' prevedibile per le ragazze della deseta a casa Cosenza nella partita valevole per il campionato di Serie D contro Nicotera. Hanno giocato facile le ragazze dei coach Crispino Embrogno contro un avversario stazionato nei bassi fondi della classifica. La partita è servita alla deseta dunque soprattutto per far ruotare l'organico e testare lo stato di salute delle infortunate che piano piano stanno rientrando a piano regime. Tirando le somme nonostante si sia trattato di un match sulla carta vinto ancora prima di essere giocato le padroni di casa si sono comportate bene affrontando nel migliore dei modi un avversario che seppur ultimo in classifica rispetto all'andata ha sfoggiato nuovi innesti e soprattutto maggior impegno. Stiamo lavorando bene, siamo sereni, siamo usciti dal periodo di vari infortuni che abbiamo avuto quindi ci stiamo allenando finalmente a completo. Si sta lavorando bene e si vedono anche i frutti in campo, la tranquillità di come riusciamo a stare in campo in questo periodo.